Peter Cardillo, Spartan Capital Securities, buon pomeriggio Peter e ben ritrovato sulle fonti. Grazie. Abbiamo notato una rotazione settoriale che è partita proprio da circa 3 giorni, possiamo crederci in questo cambio di trend o meno? Io penso di sì perché quello che stiamo di fronte è certamente rendimenti più alti e quindi questo vuol dire meno concentrazione su alcuni settori. È evidente che abbiamo visto alcuni industriali, alcuni titoli defensivi, energetici, bancari che hanno fatto meglio di tutti, diciamo, negli ultimi due o tre sedute. È quindi evidente che gli investitori guardano a un'economia espansiva e anche un mercato positivo, però giustamente il leadership cambia e ci ha cambiato da un po' di tempo. Però quello che è successo negli ultimi due o tre giorni, secondo me, è una conferma di questo nuovo leadership. Volevamo capire invece per quanto concerne le dichiarazioni di ieri di Jerome Powell che sono stati molto chiari, nel senso che le pressioni inflazionistiche rimarranno più del previsto. Dunque che cosa significa questo in particolar modo per la politica dei tassi di interesse, non del tapering che ovviamente è imminente? Sì, certo. Questa è la seconda volta in un giro di una settimana dove Powell ha dovuto riconoscere che l'inflazione è più durevole e probabilmente più saturale che temporanea. quindi sta preverando la strada per un cambiamento della politica monetaria che secondo me verrà prima del previsto. E quindi questo è evidente, vuol dire che la banca centrale è preoccupata dell'inflazione. e vorrei anche aggiungere il fatto che con il forte aumento che abbiamo visto nel prezzo del greggio e che probabilmente continuerà, è ovvio che questo vuol dire più inflazione. e quindi la Fed secondo me finalmente ha riconosciuto che l'inflazione è un problema. Dunque volevo invece andare a vedere velocemente anche il comportamento dell'indice del dollaro, poi naturalmente parleremo anche dei prezzi del petrolio ma anche del natural gas per carità. Stiamo vedendo un indice del dollaro che si sta rafforzando continuamente in queste ultime settimane. Attualmente ha toccato la quota 94. quali sono i tuoi target di medio termine? 95 per il dollaro index che non siamo molto lontano. E' certamente un dollaro che si rafforza in base a un eventuale cambiamento della politica umanetaria, un'economia che dovrebbe essere molto esplosiva nel quattro e ultimo trimestre di quest'anno. Quindi sono appunto i fondamentali che suggeriscono un dollaro più forte. E poi altri fattori, fattori psicologici. La storia con Eva Grande non è terminata. Infatti oggi si derogano di fronte a nuovi pagamenti e hanno annunziato la vendita della Shanghai Bank che loro possiedono. E quindi questo vuol dire che questa storia non è finita. certamente favorisce il biglietto verde perché sappiamo che nei tempi di incertezza il dollaro viene considerato come una moneta di rifugio. E con il fatto che i rendimenti continuano a salire, che probabilmente continueranno, certamente il dollaro brilla. Assolutamente sì. Questo naturalmente anche in ottica di una politica monetaria forse meno accomodante rispetto a ciò che abbiamo visto negli ultimi 12 mesi almeno. Intanto volevo naturalmente toccare un altro argomento estremamente importante per quanto riguarda gli Stati Uniti. Intanto vorrei far vedere ai nostri telespedatori velocemente i rendimenti dei Treasuries. Il decenale si sta riportando ad 1,52 in lieve calo. Però comunque non è tanto per il livello dei rendimenti quanto invece per la velocità con cui sono stati raggiunti i livelli attuali del decenale. Peter, quanto è seria la situazione riguardo il tetto del debito? Perché non si riesce a trovare una soluzione? Ieri dichiarazioni importanti da parte di Gianni Etienne, il segretario del Tesoro, dicendo naturalmente che se non si trovasse una soluzione entro due settimane, all'incirca, anzi poco più di due settimane, gli Stati Uniti rischiano per prima volta nella storia dell'America un default e declassamento, soprattutto il default e poi di conseguenza un declassamento del rating. Dunque è scontata una soluzione, un accordo tra repubblicani e democratici? Sì, certo. Innanzitutto vorrei dire che questo certamente è un gioco politico e niente più. Gli Stati Uniti non mancheranno ai loro pagamenti e il default è fuori questione. Potrebbero chiudere il governo per un giorno o due? Possibile, ma anche lì credo che non succederà. Pensare che gli Stati Uniti possa in questo momento falire sui loro pagamenti sarebbe una folia. E' veramente un discorso, cioè chi è che fa questo discorso, non è conoscente, direi piuttosto un argomento stupito. Perché con i democratici che hanno i voti ci sono gli strumenti e la possibilità di alzare oppure sospendere il livello del tetto. Quindi è questione di tempo. E' ovvio che i repubblicani fanno questa polemica, questo discorso che basta, non possiamo più spendere. Anche è vero che sono stati i repubblicani quattro anni fa che hanno incrementato il debito americano senza avere un strumento di pagamento. Perché è ovvio che con la riduzione dei tassi a minimi livelli, questo ha creato un deficit ancora più ampio di quello che c'era. E quindi il recupero dell'economia non ha pagato per questo debito. Quindi i democratici non lasceranno il paese di andare in falimento? Assolutamente no. Sarebbe una castrofe non soltanto per gli Stati Uniti ma per tutto il mondo. Tutto il mondo. E quindi è assurdo a pensare che questo succederà. E' un gioco politico che secondo me terminerà fra poco. Speriamo che termini fra poco perché in effetti è una questione abbastanza seria. Abbiamo visto anche una reazione dei mercati. Vorrei anche aggiungere questo. Se ci fosse una minima possibilità il prezzo dell'oro non sarebbe a 1740 ma sarebbe a 2500 forse anche a 3000. E il dollaro non sarebbe a quota 94 ma probabilmente a quota 65. E i rendimenti sarebbero ancora molto più alto di cui si trovano adesso. Dunque questa era sicuramente un'ottima osservazione per quanto riguarda l'oro e il dollaro che sono indicatori piuttosto importanti sotto questo punto di vista. Volevo capire invece per quanto concerne la possibile riconferma di Powell. Ieri Elizabeth Warren, la senatrice dei Dem, è stata molto molto dura con lui. Ha detto che è una persona pericolosa e che lei non assusterà, non appoggerà. Ecco la sua riconferma. Quante possibilità ha Powell di essere riconfermato considerando che è stato scelto da Trump? Adesso sono invece i Dems. Io penso che Powell sarà rinnovato. Certo quello che ha detto la Warren, la sua opinione, non credo che tutti i democratici la pensano così. Certamente non tutti i ripubblicani. Quindi io penso che la possibilità che lui venga rinnovato è molto probabile. Meritatamente a tuo avviso? Cosa? Meritatamente nel senso, se lo merita a tuo avviso, sei soddisfatto dal suo operato? Se dovessi dare un giudizio. Io penso di sì, perché in effetti l'unica cosa secondo me che lui sbaglia è sul tema dell'inflazione. Però lo sta riconoscendo, quindi è pronto per prendere una posizione più dura contro l'inflazione. E quindi secondo me ha guidato bene la crisi del Covid e non vedo nessuna ragione perché lui dovrà essere rimpiazzato da un altro. Almeno che non c'è un altro gioco politico. Peter, vorrei toccare un ultimissimo argomento proprio in un flash che riguarda la crisi energetica a cui stiamo assistendo qua in Europa, che naturalmente inizia a diffondersi, non rimarrà naturalmente soltanto qui. Intanto stiamo vedendo il Nature Gas a 5,56 dollari, il WTI oggi un po' più basso rispetto a ieri e il Brent sotto i 80 dollari. Quali sono le prospettive a livello di prezzo per il petrolio da qua a fine anno? Io penso 80 dollari, forse 82 il massimo. Certo abbiamo avuto una forte corsa negli ultimi due o tre giorni. Vediamo un piccolo ribasso del prezzo, ma insignificante. Questo è dovuto al fatto che ieri API ha detto che le scorte settimanali sono cresciuti di parecchio sia per il greggio che per i carburanti. Quindi questo sta dando ai traders di prendere un po' di profitto. Però non credo che la storia sia per il gas naturale che per il petrolio sia finita qui. Siamo di fronte a livelli più alti, non molto di più di 80 dollari secondo me. E probabilmente stiamo arrivando verso il picco del gas naturale. Quindi forse 5,50, 5,75 e poi dopo un po' di discesa. Grazie mille Peter Cardillo, capo economista Spartan Capital Securities. Grazie per essere stato con noi e buon proseguimento. Grazie a voi. Grazie a voi.